Grazie onorevole Grammaticacris, ho sicuramente bisogno dei suoi auguri e la ringrazio molto. L'onorevole Adinolfi, prego lei la parola. Grazie, ringrazio la Presidente e i colleghi. Io sono un nuovo membro eletto e quindi mi scuso se posso commettere degli errori formali. Auspico che nei prossimi mesi che passeranno, che passeremo qui a lavorare tutti quanti insieme, ci possa essere un clima collaborativo con tutti i miei colleghi. Io spero che la Presidente e noi tutti faremo di tutto per aumentare il budget a disposizione della Commissione Cultura. Sono fermamente convinta, infatti, che la cultura e l'educazione, l'istruzione a disposizione di tutti, però, potranno aiutare l'Europa a uscire dall'impasto della crisi economica. Sono state sia studente che professoressa. E so quanto l'occasione di scambio tra scuole, tra università, tra studenti, può cambiare la vita di una persona. Chiedo solo, per poter ben lavorare al segretariato della Commissione, che ci possano essere più documenti a disposizione di noi nuovi membri, come per esempio il bilancio che non abbiamo, oppure i bilanci dei vecchi programmi, in modo da poter parlare di qualcosa di concreto e quindi di presentare degli emendamenti interessanti. Grazie. Grazie.